A un anno esatto dalla presentazione della piattaforma contrattuale, i metalmeccanici di FIMCISL, FIOMCGL e WilmWheel scioprano 4 ore in tutta Italia per il rinnovo del contratto nazionale FETERmeccanica Sistal, scaduto ormai da quasi un anno. Ad Alessandria in Via Legnano, di fronte alla sede locale di Confindustria, le tre sigle confederali dei metalmeccanici hanno ottenuto un presidio autorizzato di 60 lavoratori, impiegati nelle circa 100 ditte operanti sul territorio alessandrino, protestando in risposta alla rottura del tavolo contrattuale da parte di FEDERmeccanica Sistal, avvenuta lo scorso 7 ottobre, usando come pretesto la decisione del tre sigle sindacale di mobilitare la categoria. È un anno che si aspetta questo rinnovo? Sì, esattamente un anno fa, il 5 novembre del 2019, FIMCISL nazionali hanno presentato la piattaforma FEDERmeccanica. A distanza di un anno non abbiamo ancora una risposta concreta che ci possa fare dei ragionamenti e andare avanti nella discussione per il rinnovo. FEDERmeccanica ha rotto le trattative sulla parte salariale, noi chiediamo un aumento ai minimi contrattuali pari all'8%, che equivale a 156 euro, FEDERmeccanica mette sul tavolo 41 euro, un aumento pari al 2,1%. La crisi sanitaria va sicuramente a intaccare anche il mondo lavorativo? Sì, certo, dentro la pandemia il mondo del lavoro è colpito, anzi noi registriamo in questa seconda ondata maggiori casi, sia di positivi che di quarantene, anche se per fortuna grazie ai protocolli che sono stati concordati non abbiamo focolai nei luoghi di lavoro. Ed è chiaro che però dentro la crisi sanitaria ha maggior ragione, c'è necessità di un contratto che dia salario e dignità ai lavoratori, che sono appunto essenziali per il Paese, perché anche in questo lockdown del Piemonte non si fermeranno le attività produttive e i lavoratori non si tirano indietro, però pretendono salari e diritti riferiti proprio allo sforzo che stanno facendo e a un contratto che è scaduto ormai da un anno.